L'ultimo tentativo di pace fra Ilari Blasi e Francesco Totti sarebbe fallito, il gesto clamoroso non avrebbe sortito l'effetto sperato. La ex coppia andrebbe dunque incontro ad una separazione giudiziale, ecco cosa sarebbe successo. Ha solleticato l'immaginario collettivo degli italiani la vicenda dei Rolex d'oro raccontata da Francesco Totti. L'ex capitano della Roma sostiene che Ilari Blasi avrebbe preso, forse con l'aiuto del padre, la sua collezione di orologi d'oro dalla cassetta di sicurezza. Siccome ci teneva molto, per poterli riavere indietro avrebbe escogitato uno stratagemma. Alcuni dei fotogrammi del famoso video in cui Ilari Blasi ha ironizzato sulle notizie che riguardavano un suo presunto, furto, dei Rolex di Francesco Totti, fonte, Instagram. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Totti aveva spiegato di aver, sottratto, ad Ilari Blasi le sue amatissime borse e scarpe. La speranza dell'ex calciatore era che, forse, per riavere indietro i suoi accessori la conduttrice dell'isola dei famosi avesse aperto allo scambio con i Rolex d'oro. Poco dopo, era arrivato l'irriverente gesto di Ilari, Blasi Totti, perché il tentativo di pace è fallito. In retroscena la Blasi si era mostrata in un breve video, dove compariva davanti ad un negozio di Rolex, facendo un gesto eloquente con le mani. Il riferimento era proprio alle parole dell'ormai ex marito. Da quello che trapela, però, sembrerebbe che Ilari sostenga che gli orologi siano effettivamente intestati a lei, non ci sarebbe dunque nulla di strano a prelevarli. Roma. Ilari Blasi si concede qualche momento di relax al tavolino di un ristorante, foto Instagram. Francesco Totti, forse spinto dai suoi avvocati Anna Bernardini de Pace e Antonio Conte, ha fatto un gesto clamoroso nei confronti di Ilari Blasi, sembra proprio l'ultimo tentativo di poter fare la pace. Dal momento che il cupone fa coppia, fissa con Noemi Bocchi sembra impossibile che i due tornino insieme, ma la speranza forse era che calasse il gelo. Cosa succede adesso? Sembrerebbe proprio che non ci sia scelta Francesco avrebbe all'improvviso deciso di restituire le borse a Ilari. La conferma è arrivata anche da una foto condivisa dalla stessa conduttrice, dove compariva dalla sua amica parrucchiera con una Chanel della sua collezione sotto braccio. Sembrerebbe, però, che la Blasi abbia comunque deciso di non restituire la collezione di Rolex d'oro a Totti. Immagine dall'archivio, alla fine della partita fra Barcellona e Roma, Messi e Totti si scambiano la maglia in segno di stima, foto Instagram. Secondo quanto trapela, Francesco Totti non avrebbe ancora restituito le scarpe a Ilari Blasi, prese, insieme alle sue borse. Inoltre, tutti i tentativi di riconciliazione da parte degli avvocati, finora non sarebbero andati a buon fine. Sembrerebbe proprio che la conduttrice non voglia un divorzio consensuale, ma piuttosto una causa giudiziale. Ecco il video, subito diventato virale, in cui Ilari Blasi si mostra davanti ad un negozio di Rolex subito dopo le dichiarazioni di Francesco Totti a Il Corriere della Sera, Ilari si fa un video davanti ad un negozio Rolex e tagga Francesco Totti pic. Twitter.com barra 9 Radburi, Ilari Blasi out of context, chiocciola Ilari Blasi trattino basso o oc, October 4, 2022.